Buongiorno a tutti, ci troviamo a Treviso, la partenza del Giro d'Italia, dove abbiamo consegnato un riconoscimento a due dei nostri colleghi che sono distinti in un'azione di recupero di un animale, una piccola gattina che si era rifugiata in consigliere di sorpasso. Hanno operato diligentemente e con efficacia bloccando il traffico autostradale e consentendo a degli operatori specializzati di recuperare l'animale in piena sicurezza, sicurezza che deve essere garantita sia all'animale medesimo ma anche ai nostri clienti che in contatto all'animale potevano effettuare manovre azzardate. Questo è un riconoscimento a tutti i colleghi di Autostrade per l'Italia, ma a tutti i colleghi del Secondo Tronco che continuamente operano sulle nostre trate di competenza con assoluta dirigenza e passione. Buongiorno a tutti, sono Solenrico, assistente al traffico del Secondo Tronco Autostrade per l'Italia di Milano. Voglio ringraziare l'azienda per questa magnifica opportunità che mi ha dato e che ci ha dato. Ringrazio il direttore di Tronco, Stefano Catellani, per la consegna del premio. Desidero estendere questo premio in modo ideale con un grande abbraccio a tutti i miei colleghi assistenti, a tutti gli ausiliari e alla viabilità che ogni giorno con passione e estrema professionalità rendono sicura la strada per i nostri clienti, i nostri utenti.